Una nuova conquista ed un altro passo per l'Istituto Professionale di Ristorazione DF Pietro Berton di Valdobiadene. Lunedì 5 febbraio, presso Villa Sandy di Crocetta del Montello, è stata indetta una conferenza stampa per annunciare che il pandavin, prodotto dalla scuola di ristorazione, diventa il pane ufficiale nelle manifestazioni del Consorzio di tutela Conegliano Valdobiadene, Prosecco Superiore di OCG. Siamo molto orgogliosi perché oggi si celebra questo matrimonio del pandavin, prodotto dalla nostra scuola, la scuola Istituto DF di Valdobiadene, con il Consorzio di tutela Conegliano Valdobiadene, Prosecco Superiore di OCG, con il Presidente Nardi che in qualche modo sceglie il pandavin come pane ufficiale per tutte le manifestazioni dal Provine di Dussendorf fra un mese, Alvin Italy in aprile, Alvin in Villa, quindi siamo estremamente orgogliosi di questo grande partnership, per noi è un risultato veramente incredibile che dei ragazzi e una scuola professionale riesca ad avere partner così prestigiosi. Il pandavin è nato da un'idea di Alberto Raffelli e da questa idea tramite la DF, tramite la collaborazione con Gian Antonio Tramec si è sviluppato e è cresciuto. Oggi è arrivato a stringere una collaborazione forte con il Consorzio di tutela del Prosecco Superiore Conegliano Valdobiadene di OCG e anche con la Primavera del Prosecco dove durante queste mostre si può trovare questo prodotto, prodotto che rappresenta il nostro territorio, perché il nostro territorio si è fatto del Conegliano Valdobiadene di OCG, ma poi ha tutta una serie di prodotti collegati che sicuramente fanno un buon ammigliamento in tavola per gli aperitivi, ma non solo, anche per i pranzi e per le cene. Questa scuola ha brevettato un tipo di pane perfetto per il Prosecco, una grande cantina è intervenuta anche per aiutare a fare una nuova scuola, adesso abbiamo bisogno di tutto il territorio. Il Prosecco di OCG di Valdobiadene di Conegliano ha un nome, un nome importante, rafforziamo l'identità anche con questa produzione tra scuola e lavoro. Oltre all'ufficializzazione del connubio PandaVin e Consorzio di Tutela, sono state presentate altre novità, quali l'introduzione della tecnologia NFC nell'etichetta delle confezioni del PandaVin e la prossima inaugurazione della nuova sede dell'Istituto DF presso la ex Filanda di Valdobiadene, un progetto fortemente voluto e sostenuto da Giancarlo Moretti Polegato. Quest'anno apriremo, dopo un lavoro lungo di ristrutturazione, nell'ex Filanda Piva di Valdobiadene, la nuova sede della scuola DF, che oggi è in due sezioni a Valdobiadene. Quindi il connubio vino e cucina e cuochi penso che sia un matrimonio che ha fatto successo finora ma lo farà anche in futuro in Italia e nel mondo. Lei sa dirci quando ci sarà il trasferimento della scuola? I lavori dovremmo completarli nel mese di aprile e spero per maggio-giugno di fare l'inaugurazione perché i tempi sono questi, credo che siamo ormai al punto d'arrivo.